DJI, DJI, ma che scherzi mi fai? Sono tre settimane che lo provo incessantemente e ho trovato al primo utilizzo serio il primissimo problema. Se avete un occhio clinico lo vedrete già da soli cosa è cambiato dall'ultimo setup che però potete trovare qui sopra. Quindi se siete curiosi di vedere la sostanziale differenza che ho portato al montaggio del follow focus il consiglio che vi do io è di guardarvi prima il video che c'è qui sopra dove spiego come lo vado a montare e poi vedervi la motivazione per cui ho deciso di mettere la barra che mantiene il focus dalla parte sinistra invece che dalla parte destra. Perché nel libretto delle istruzioni minimal che viene fornito il running sc focus monitor viene spiegato di montarlo come vi ho spiegato nel video precedente. Ma c'è un ma. Se io voglio andare a sostituire la batteria on the go mentre sto lavorando con questo metodo qua che vi mostro qui non c'è la possibilità di sostituire la batteria se non andando a smontare il piatto di sgancio rapido e la piastrina sottostante che abbiamo qui sotto. Andiamo a sganciare la camera dal Ronin vi faccio anche vedere come si va a smontare la batteria in questo caso perché abbiamo il vano batteria libero vedete e ho la possibilità di andare a togliere la mia batteria e la mia SD comodamente. Cosa che invece con il motore posizionato di qua mi impediva l'apertura. Andiamo a sganciare la Sony e vi faccio vedere qual è stata la modifica che sono andato ad apportare. È una modifica in cui ho invertito il posizionamento. Vedete come è posizionata la telecamera il piatto adesso. Allora andiamo a smontare il primo piatto ovvero la slitta rapida. Capite che per smontare la batteria dovevo fare tutta sta roba l'altra volta ho dovuto smontare tutto quanto non avete capito le bestemmie che ho tirato mentre ero al lavoro. Ho semplicemente girato questo piattino qui l'ho girato di 180 gradi vi mostro come per smontare la batteria smontare tutto questo è una follia. Praticamente stacchiamo anche il cavo alla camera il follow focus viene pensato da DJI montato in questa maniera qua. Ok e montato in questa maniera qua vedete che il supporto che tiene il follow focus va a coprire perfettamente perfettamente il vano batteria rendendo impossibile l'apertura. Quindi quello che ho fatto io prendo a mano nuovamente il blocco del motore quello che ho fatto io non è stato altro che andare a svitare questo pannellino e a ruotarlo in questo verso permettendomi così di avere il braccio che sostiene il motore dalla parte opposta. In questa maniera il motore si troverà sulla sinistra della telecamera invece che sulla destra come vedete non c'è la scritta Ronin che sarebbe correttamente posizionata di qua però diciamo che è l'ultimo dei miei problemi perché cambiare la batteria è indispensabile. E un'altra modifica che ho fatto è stata quella della griglia di rotazione che ho messo al contrario per evitare che questa parte del adattatore andasse ad incastrarsi da qualche parte. Quindi questa è la modifica che io vi consiglio caldamente di fare perché senza sta modifica se avete una camera come una Sony comunque con il vano batteria posizionato sotto la parte destra della telecamera avrete questo problema della sostituzione della batteria che è impensabile. Non esiste non poter cambiare la batteria su Ronin quindi bello il prodotto ma pensate meglio la prossima volta che fate le istruzioni. Se vi è piaciuto il video cliccate mi piace se pensate che possa essere utile a qualcuno dei vostri amici che magari ha comprato il Ronin SC beh condivideteglielo che magari può essergli veramente utile questo piccolo tutorial. E ricordatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e ricordatevi di accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti gli appuntamenti che ci sono durante la settimana. Gli appuntamenti sono il martedì con la diretta live, il mercoledì con le recensioni e le videoproduzioni e il giovedì con le pillole di Da Vinci Resolve. A me non resta che salutarvi e dirvi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!